Allora finalmente si riparte dopo parecchio tempo anche troppo e si va al mare non troppo lontano perché è già sabato e quindi è già tardi e quindi si va vicino ancora non si sa dove però si va va bene ciao Oh arrivati ci siamo piazzati si fa la pasta dopo si va a prendere un gelatino ciao prendi il piatto prendo il piatto questo è il risveglio del guerriero che di risveglio cia poco allora come possiamo vedere in quest'area parcheggio alla mazzanta i camper abbondano però non stai benissimo stasera senza problemi molto bellino comodo finché non si rompe le scatole che altro finché non parte la stagione estiva a modo quindi probabilmente per ora vengono tollerati però ce ne sono veramente tanti si trovano anche d'estate poi a due passi dal parcheggino c'è questa bella finita che va in spiaggia libera ora vediamo se si trova un posticino per tirare a due pallonate va bene anche giocare a spiaggia se con questo si gioca a spiaggia ma si muove bravi ecco andiamo l'ora e si va a mangiare ciao Sara ciao Alessio come stai molto bene meglio qui che a casa te Lorenzo come stai si mangia qualcosa e si rientra verso casa cosa si mangia stasera? niente fa male mangiare nulla cerco qualcuno che mi offra un panino qui è durissima grazie a tutti grazie a tutti